Rieccoci per mettere la formazione, nuova giornata che incombe su di noi, molto molto importante, il periodo è molto impegnativo. Lui non ha ancora messo la formazione, ma ovviamente manca un sacco di tempo, ma visto che giocano venerdì, siamo subito qui carichi, più o meno, per andare in campo. Più o meno, perché purtroppo a centrocampo questa giornata mi giocano, spero, spero in tre, perché spero che giochino questi tre, perché non si sa mai che all'ultimo accade l'imponderabile. Orsolini, che mi stava trascinando letteralmente nelle ultime giornate, si è spaccato in Coppa Italia contro il Monza, e quindi fino a penso al 2025 addirittura non lo potrò più schierare. Gli altri, sapete voi che fine hanno fatto? Non lo so, comunque si va di 4-3-3, anche perché di altri moduli con il centrocampo 3 non ci sono, sono il 5-3-2, ma 5-3-2 veramente mi fa male solo sentirlo al fantacalcio, 5-3-2 veramente, io non so se qualcuno abbia mai avuto il coraggio di metterlo, ma come anche un 5-4-1, cioè ma chi è che mette il 5-4-1? Vabbè, comunque, partiamo dalla porta, dove? Eh, qui è tosta. È tosta perché? Io metterei il portiere della Juve, ma gioca Di Gregorio o gioca Perin? Perché potremmo anche rischiare un Di Gregorio titolare e come riserva Vasquez. Potrebbe anche aver senso una cosa di questo tipo, come riserva Vasquez che è vero ha uno scontro diretto a Verona, oppure si va sul sicuro e mettiamo uno tra Perin e Di Gregorio, che forse è la scelta più logica. Però anche Vasquez non mi sarebbe dispiaciuto. In difesa, allora in difesa abbiamo Alberto Morino a Venezia, interessante, Bastoni in casa contro il Parma, Nicaa per forza di cose, e poi in realtà Dorgo a Roma, Ien col Milan, lo eviterei, non perché non possa fare bene, però non mi convince, Valeria a Milano, forse Martínez Quarta, non so perché in campionato giochi veramente poco, gioca solo in Europa League, in Conference League Martínez Quarta, vabbè. Quasi quasi a sto punto direi Dorgo, è vero che il Lecce a Roma farà fatica, poi la Roma deve vincere una partita prima o poi, e quindi credo che sarà dura per il Lecce, però diamo fiducia a Dorgo che comunque il suo spero lo possa fare. Poi a centrocampo Barella, Raffià, discorso uguale per Dorgo, purtroppo trasferta di Roma difficile, ma io non ho alternative, o metto lui, o gioco con uno in meno. Allora, primo panchinaro, onestamente non so le condizioni di questi qui, poi mi informerò su chi eventualmente può recuperare, oppure chi è proprio morto definitivamente, però metto questi, tanto uno vale l'altro. Davanti, davanti pure non è, non è semplice, perché Belotti giocherà, boh, allora sicuramente escludo Bonni e Brenner, per motivi abbastanza validi. Belotti nell'ultimo periodo purtroppo sta facendo male, quindi continuerei a tenerlo in panchina. Mettiamo CDK, che non sono sicuro che sia titolare, perché non si sa, però mettiamo lui con il Pina, e poi Toven a Monza. Primo panchinaro Belotti, e poi andiamo di Bonni e Brenner. Questo è l'undici, dubbi in realtà non possono anche averne tanti, perché i giocatori che ho sono quelli, ragazzi, purtroppo a centrocampo soprattutto in tre siamo. I tre moschettieri, spero che andranno avanti loro per un po' di tempo, almeno loro tre, però questo è il mio undici, 4-3-3, con in porta di Gregorio, Moreno, Bastoni, Indicà, Dorgo, Barella, Raffià, Strefezza, De Chetelere, Pinamonti, e Toven, quindi salviamo un po' la baracca, vediamo se l'ha messa la formazione, perché come sapete in passato è capitato che la formazione non fosse stata schierata, ho rischiato di giocare, di non metterla fondamentalmente, e chiudiamo con la Serie B come sempre. Ho fatto cinque cambi rispetto alla scorsa settimana, ho tenuto innanzitutto Stroppa in panchina, e ho puntato un po' sul Bari, in Portagagno con la Serenitana, in Modena-Serenitana, secondo me ci sta, Caraccio l'ho confermato, Ristov e Dorval li ho scelti per questa giornata, secondo me possono fare bene, Dorval settimana scorsa ha fatto gol, e può confermarsi, davanti tra l'altro ho scelto anche Lasagna, sempre contro il Cesena, confermato l'Oriente Capitano e Lind, e poi ho preso a centrocampo Pontisso, gli altri li ho tenuti, tra l'altro Maestro e Casiraghi contro giocano, e Pontisso contro il Brescia, che per me può comunque ben figurare. Detto questo, signori, io mi fermo e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!